Una città strana e piena di insidie, bagagli pesanti da trasportare, dogane difficili da passare, un aeroporto che riserva molte sorprese. Tutto questo è Palermo Staccuriti, occhio vivo a Punta Raisi. In questo episodio il signor Ciolciolin di Baucina viene fermato perché il suo bagaglio, troppo pesante, desta alcuni sospetti. Oh ma che c'è un falai cerca di dintra? Bissamento. Bissamento? Maglietta, pantalona, montagna. Io cambio niente, un po' di essere. Non c'è un negozio, a Punta Raisi non c'è un negozio. La gente doganale, col consenso del malcapitato, continua a rovistare all'interno del bagaglio e manda i due laptop al controllo informatico. Dal controllo si evincerà che i due computer contengono software craccato. Io me l'avevo scuolato subito che qualche cosa andava. Nella fronte c'era scritto io e Winno scacchiato. Era pronto per prenderla a Badarosa, accuro. Il signor Ciolciolin si vedrà sequestrare due portatili e dovrà pagare una multa di 3.000 euro per possesso illegale di software. Pover uomo, era venuto a Palermo per farsi una bella vacanza e invece dovrà vendere accendini e braccialetti per pagarsi il biglietto di ritorno. A me mi è dispiaciuto per il Cristiano, ma il Cristiano mi è travaglio. Con il pane di Cristiano non si va a via. Io è piuttosto sempre fresco a casa. Io sogno un travagliatore che consegno anche. Per fare questo travaglio appuntarai se ci vuole occhio vivo.